Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi farò un breve video per spiegarvi cos'è che mi succede perché qualcuno di voi mi ha scritto dopo aver visto alcuni post. Chi mi segue su Instagram probabilmente lo sta già. In poche parole, sabato sera dopo la festa della rete a Rimini eravamo andati nella parte della spiaggia e mi sono messo da una parte a prendere dei appunti e sono stato derubato. Ho perso la borsa e ho perso tutto quello che avevo dentro. Ho perso tutti i soldi che avevo messo da parte durante quest'estate per comprare la nuova attrezzatura e una fotocamera. Ho perso una batteria esterna. In realtà non è nemmeno per le cose. Più che altro sono rimasto molto distrutto perché non è che stavo molto bene di mio da qualche tempo perché sto lottando con tutto me stesso per trasformare questo che è poi il mio sogno da quando ero bambino cioè di riuscire a fare il divulgatore scientifico, di parlare di scienza usando teatro o arti in generale e riuscire a raccontare quello che a me dà più gioia in assoluto. è difficile riuscire a trasformarlo in un lavoro. E ci sto provando. Da tanto tempo faccio tutto quello che riesco a fare. Come vi avevo raccontato sto facendo quattro diversi lavori per riuscire a mantenere questa come attività e mi sono accorto che non riesco a farlo più, che passo molto più tempo a fare altri lavori per mantenermi, per riuscire a fare questo mio lavoro. e diciamo che sono spaventato. Ho paura e a volte la notte è difficile riuscire a fare i conti con la coscienza quando pensi che non guadagni abbastanza da potermi andare avanti e continui poi la mattina dopo ad accendere la webcam e registrare. e ci credo tanto, ma tanto, e amo profondamente questo progetto e la community e tutto quello che sta succedendo e il mio lavoro. Non è sempre facile poi riuscire a tenere a bada anche tutte le altre preoccupazioni. E quindi diciamo che quando ho visto sparire la borsa, quando sapevo di aver perso tutti i soldi che avevo preso da parte, che avevo poi casualmente con me perché mi avevano da poco pagato, è stato un colpo forte. Poi ho passato la strada, questo è successo verso l'una, credo, e sono rimasto fino alle 4 a giro per le spiagge a ricercare se qualcuno aveva buttato magari la borsa o se era rimasto qualcosa e sono riuscito a ritrovare la borsa vuota ovviamente e poi questo mi ha fatto pensare che magari hanno buttato anche il portafoglio se non altro per i documenti. Così sono rimasto tutta la notte, quello che restava della notte, e poi la mattina sono andato a fare il giro di nuovo di tutta quanta la spiaggia chiedendo a tutti i bagnini se avevano trovato qualcosa per terra, la sabbia è verso le 11. Per fortuna sono riuscito a trovarle, un bagnino aveva trovato nella sabbia i documenti e quindi almeno quello è andato bene. Sono tornato a casa e volevo fare un video per raccontarvelo ma sono passato il primo giorno e mezzo e avevo, ero distrutto, avevo pianto tutta la notte andando per la spiaggia non riuscivo nemmeno bene a guardare, a guardare uno schermo e va bene. Comunque, scusate, odio fare queste cose perché poi di solito sono profondamente convinto che poi facendo, mettendoci dentro convinzione, allegria e in qualche modo e quindi voglio essere positivo e per questo il titolo del video è anche quello che vedete che comunque ce la faremo, andremo avanti nonostante questo e questo da una parte mi dà una mano, in questo mi dà una mano forte anche tutti i vostri commenti mi sono arrivati tantissimi commenti davvero commoventi e penso di essere rimasto molto più profondamente colpito in queste ultime ore dai messaggi che mi arrivano di supporto, da tante donazioni che mi sono arrivate e questo mi riempie anche di speranza perché alla fine comunque c'è ancora il conto su Paypal dove raccolgo le vostre donazioni e lì ci sono abbastanza soldi con cui dovrei riuscire comunque a ricomprare almeno qualcosa per tornare a fare video come speravo e spero di fare Patreon devo fare un conto per riuscire ad aprirlo e quindi volevo avere la sicurezza di poter aprire un conto per questo non l'ho aperto il mese scorso il progetto Patreon che dire grazie di esserci perché nonostante tutto sono assolutamente convinto di voler continuare in questo progetto non solo per me io anche se mi rendo conto ora che forse dato che mi è difficile parlare di queste cose non sono abituato e quindi nella prima parte del video forse sono stato un po' troppo pessimista però sono molto convinto di voler andare avanti e di certo non mi fermerà soltanto un incidente come questo quando ho iniziato quando ho iniziato a fare di youtuber avevo una webcam che avevo comprato dopo aver messo soldi da parte per diverse settimane mesi in realtà e registrava in 1,4 piccoli 1,4 megapixel registrava in una qualità boh uno sputo e mezzo e e mi ricordo di aver fatto era un canale in inglese prima di questo in italiano e mi ricordo di aver fatto i miei primi video ed essere stato molto molto emozionato semplicemente perché qualcuno da un'altra parte del mondo in quel caso perché era internazionale mi commentava e mi diceva che le sue riflessioni che l'aveva colpito qualcosa piuttosto di un'altra cosa quindi alla fine sarà sarà penso emozionante come ritorno a a questo quindi nei ultimi tempi probabilmente mi stavo anche molto mettendo tensione da solo addosso per l'idea di di far fare un salto di qualità e come fare di più e le preoccupazioni alla fine mi hanno scavato dentro e mi è rimasto questo senso di angoscia continuo e quindi si è difficile so che da dall'altra parte non sembra ma certe volte fare questo lavoro di youtuber anche è impegnativo parecchio comunque basta depressione finendo su un tono un po' più positivo di nuovo voglio ringraziarvi di cuore per tutti i messaggi perché davvero mi mantengono sano di mente e mi danno speranza per il futuro ed è la cosa più bella e domani se tutto va bene se riesco a riparare la webcam ci vediamo sempre qui su Link for Universe per un video in cui presenterò un libro di un mio carissimo amico di Rick Dufer sui pianeti e parleremo di quello ma dovrebbe essere alle 9 comunque sotto trovate il link anche a quello restano validi gli appuntamenti per conoscerci dal vivo per cui a ottobre il 17 sarò a Napoli dal 1 al 4 ottobre sono a Roma poi a Milano dal 21 22 e 23 comunque sotto vi dico tutto che dire per adesso grazie mi dispiace per questo video è un po' strano mi rendo conto che deve essere un po' faticoso almeno a me fa fatica continuare a a ridire le stesse cose anche davanti allo specchio quindi sono mesi che continuo a ridirmelo quindi spero di tornare allegrissimo come sempre della prossima volta grazie come sempre e continuate bene continuate beh lo siete tanto siete meravigliosi e vi voglio bene grazie a tutti grazie a tutti